Do we even know who is this 4chan person or website? 15 anni fa eravamo solo dei ragazzini stupidi che si divertivano a scambiare battute e meme online. Their name comes from their secret website. 4chan. C'erano cose che non avresti trovato da nessun'altra parte online. Ammetto che alcune cose erano un po' al limite. E rimanendo anonimi, i giovani avevano la possibilità di esprimere i loro pensieri e opinioni senza essere giudicati. E ne volevi sempre di più. Era un'esplosione di immagini virali. Non volevi che la festa finisse. Abbiamo dato il via a qualcosa che non avremmo mai immaginato. Le persone hanno esteso gli scherzi alla vita reale. E se suscitavi l'ira di un anonymous, eri spacciato. Hello, leaders of Scientology. Anonymous has decided that your organization should be destroyed. E' che cazzo! E' che cazzo! Ciò che fa guadagnare questo tipo di siti è la rabbia. Quindi Facebook o Twitter guadagnano soldi tramite la rabbia degli utenti. Al mano che Internet diventava come 4chan, è molto più facile creare contenuti oscuri, volgari o da squilibrati. Basta immetterlo in questo ambiente e aspettare che diventi virale. Avevamo tutti contribuito a distorcere la realtà. Non era nostra intenzione trasformare il mondo in un cartone animato. Spredare la informazione, questo è quello che ci ha chiesto di fare. Questo non è successo nella storia del mondo. E tutto sta succedendo perché della Internet. www.mesmerism.info